Che cos'è il Li-Fi e qual'è la differenza con il Wi-Fi? Il Li-Fi o Light Fidelity è un termine che è stato introdotto per la prima volta nel 2011 da Harald Haas in occasione di un TED e indica la controparte ottica dei sistemi Wi-Fi. C'è da dire che sia il Li-Fi che il Wi-Fi utilizzano onde elettromagnetiche per trasmettere dati ad alta velocità, mentre il Wi-Fi utilizza le onde radio, il Li-Fi utilizza onde elettromagnetiche nella banda del visibile. Il sistema Li-Fi funziona utilizzando le lampade LED di illuminazione domestica. Il LED è un dispositivo di illuminazione a semiconduttore. A differenza delle lampade tradizionali incandescenza o fluorescenti, la sua luminosità può essere fatta variare in modo estremamente veloce, in modo assolutamente impercettibile dall'occhio umano. Il sistema, connesso alla rete internet, utilizza quindi la luce visibile modulata ad altissima velocità per trasmettere dati verso il terminale d'utente. Il ricevitore dispone di un fotorivelatore, un fotodiodo, un dispositivo che fa la conversione inversa, cioè trasforma le variazioni di luminosità del LED in segnali elettrici che vengono poi trasmessi al terminale d'utente, che sia esso un PC, un tablet o un notebook. Il Li-Fi, rispetto al sistema più tradizionale Wi-Fi, ha dei punti di forza e dei punti di debolezza. Tra i punti di forza c'è la portata ottica. Il sistema Li-Fi è limitato alla portata ottica e questo garantisce, da un lato, la protezione contro interferenze da altri sistemi e una maggiore protezione nei confronti delle intercettazioni non desiderate. Non utilizzando onde radiofrequenza, né poi promettente l'utilizzo in ambienti in cui queste interferenze sono potenzialmente pericolose, quali aerei ed ospedali. Ovviamente anche per i Li-Fi ci sono dei punti di debolezza. Proprio perché la portata è ottica e il Li-Fi non supera ostacoli opachi o muri, è necessario installare un terminale in ogni ambiente che si desidera connettere alla rete. Inoltre, poiché utilizza la luce visibile, è necessario che le luci restino accese sempre e anche di giorno. Infine, ad oggi non esistono terminali d'utente, PC, netbook, notebook, che nascano con interfacce per questo sistema. Grazie a tutti.